Clima caldo, primaverile, anzi quasi estivo qui al centro sportivo Angelo Moratti per il secondo giorno di primavera e per il penultimo allenamento della squadra in vista del posticipo di domenica delle 20.45 Juventus-Inter. La squadra si è allenata per circa 60 minuti alla presenza del direttore tecnico Marco Branca, del direttore sportivo Piero Ausilio e di Gianfranco Bedin. I Nerazzurri hanno svolto una seduta in più gruppi articolata su varie esercitazioni tecniche e di conclusione poi terminata con una partitella a tema sul campo ridotto. Passiamo anche ai singoli, quindi programma completo di recupero per Riccardo Alvarez mentre seduta individuale anche di tecnica e anche di coordinamento sul campo per Wesley Sneijder. Lorenzo Krzicic è allegato alla primavera di Mr. Stramaccioni che domenica, ricordiamo, avrà l'importante appuntamento alla finale della Next Gen Series contro l'Ajax che Interciane naturalmente seguirà in diretta mentre con la prima squadra si è allenato il portiere Ivuzic. Ivuzic classe 1995 che fa parte della rosa degli allievi nazionali. Domani sarà già giornata di vigilia, dunque giornata importante per preparare lo scontro contro la Juventus. Mr. Ranieri incontrerà i giornalisti presso la sala stampa del centro sportivo Angelo Moratti alle ore 14. Io naturalmente vi ricordo l'appuntamento con Countdown per seguire l'ultimo giorno di allenamento, il giorno di vigilia di Juventus. Inter è per prepararci al meglio alla sfida di domenica delle 20.45. Per tutte le ultimissime sul mondo nero azzurro io naturalmente vi invito a continuare a seguire InterChan nel canale 232 della piattaforma Sky ma anche di sottoscrivere l'iscrizione al canale YouTube con tutti i programmi di InterChanel ma anche i servizi e naturalmente anche le conferenze stampa di Mr. Ranieri per essere sempre più vicini a InterChanel al mondo nero azzurro.